Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Da quello che avete capito, siamo al Mineral Show di Verona e iniziamo subito con delle belle ametiste. Belle le agate. Davvero belle. Guardate questi alberi, bellissimi ragazzi. Ormai questo è l'ultimo giorno, ma l'anno prossimo le farfalle con le ali di agata. L'anno prossimo vi consiglio di venire perché è veramente bello. Che bello. Abbiamo del quarzo rosa ragazzi. La sodalite. Oddio che bella. È gigante. E se fosse il tanile, se vedi la torta al polo, ti vedi la torta a una stacolina. Pagate. Tutte le pietre che te vuoi. Tutte le pietre che te vuoi. C'è la vespa intrappolata dentro. Dopo te con domande? Non c'è. E l'anno prossimo. Ma la pietre è grande. Non ti piace quella. La piramide. Oddio, dalla più piccola alla più grande, ci sono tutte queste fatte a falle. Che cose che spiegano, anche i libri. What? Oh mio Dio, che gigante. No, ma questo non può essere in vendita, è troppo grosso. Oddio. Bella la pirite, anche il corso rosa. Beh, ragazzi, non so voi, ma io vado pazzo dell'ametista. E qua ce n'è fin troppa. Guardate quella là. È buccata. Ragazzi, io sono segno zodiacale della riete. E qua, qua. La riete è la corniola. Faccio per tutti, così siete felici e sapete il vostro segno zodiacale. Belle. Ovviamente, alla fiera i minerali non potevano mancare i fossili e conchiglie varie. Grazie. 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 che grosse che sono oddio me ne sono aperte adesso grosse che sono ce ne sono davvero tantissimi ragazzi io ho 20 euro per comprarli non so quali comprare ci credete con così tanti non so quali comprare non so quali comprare